di cui non conosciamo e ha perso anche in settimana col Salencio e ha perso anche però la coppa che si sono presentati veramente a un corto di uomini predestinati a perdere comunque vabbè si rifaranno in casa se non mi sbaglio hanno il derby se non mi sbaglio ma il risultato, un altro risultato a sorpresa è questo San Giorgio la Molara che va a pareggiare 0-0 a Molinara e fa anche rima come è possibile che sulla panchina del San Giorgio la Molara quel cazzo di Mister Gliannunzio prepara sempre le partite così bene con Mister Gliannunzio l'anno scorso ci siamo incontrati ed è uno che dà molta carica ai ragazzi eh sì lo sai in settimana ci siamo sentiti e gli ho detto Maurizio vorrei vederti in un'altra squadra senza ragazzi che conosci a dover plasmare ex nuovo tutti quanti ci riusciresti insomma quella è una bella sfida secondo me sì bisogna vedere comprate Maurizio e annunzio anche la pubblicità mettiamo anche questa ci saluta Zio Tonino ciao saluti a Guardia ciao Zio Tonino e poi stavamo dicendo quest'ultimo risultato 0-0 quindi ha steccato il Molinara di Mino Forgione ma andiamo a vedere il prossimo turno non è venuto a rivedere la classifica che sta a tre punti che sta appunto appena iniziata il San Giorgio del Sannio ha riposato cioè bisogna dirlo quindi mister Zio ritornerà anzi sordirà a Paco Viano la prima giornata è insomma un inizio abbastanza in salita per questa squadra giovane quest'anno il San Giorgio ha fatto la squadra giovane progetto anno 0 tutti i ragazzi nuovi allenatore esperto ci è simpatica e quindi ti fiamo per lei però a Paco Viano è abbastanza inizio anche io ti favo per il presidente Boniello ecco anche il presidente Boniello siamo tutti atti fare San Giorgio del Sannio e Carmine Zeuli e poi c'è questo scontro interessante con secondo me il match clou della giornata quello tra Real San Nicola e Sport in Venticano per capire insomma veramente questo Sport in Venticano di che pasta è fatto se non mi sbaglio mister Peluso è un ex perché ha allenato anche lui a Venticano ma sa anche Barrazzo no se non mi sbaglio forse si sta con lo Sport in Venticano se non vorrei sbagliarmi ma ci sono anche altri di San Giorgio perché c'è Fonzo un ragazzo molto veloce insomma è una bella squadra è una bella squadra secondo me sì però a San Nicola troverò una squadra molto esperta è vero molto esperta e poi sempre fuori casa quindi e poi sarà una prova decisiva un'altra prova importante per il Molinara che non si può permettere di andare ad Apice insomma pareggio in casa non possiamo permetterci di perdere ad Apice però l'Apice ecco questa nuova squadra questa nuova società tanto entusiasmo so che la società sta lavorando molto bene eh sì anche col settore giovanile Felice Pepe lo salutiamo poi ecco c'è questa brutta gatta da pelare subito un altro derbissimo quello tra San Giorgio la Molara e Buon Albergo eh questo è un altro bel derbaccio San Giorgio la Molara con il coltello fra i denti cercherà di rendere la partita difficile a Buon Albergo ma il Casalbergo se dovesse nearellare quelle due tre partite di fila come ha fatto tre anni fa quando allora era Casalbergo insomma si proporrà come squadra che rovina la festa parecchia eh sì 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 questo Buon Albergo è una squadra che noi seguiamo e l'avevo detto prima c'è il derby tra Atletico Sannita e Virtus Benevento quindi il Mellù si vedrà questo derby alla seconda giornata e anche qui l'Atletico Sannita non si può permettere di lasciare altri punti inizio a zero non piace a nessuno però i derby si sa eh voi avete derby quest'anno manco uno che schifezza ci saluta Gianni Cavaiolo nella prossima puntata vorrei vedere Nicola Flora Sasso Antonio Varricchio ragazzi venite noi siamo qui veramente se volete venire basta che me lo dite mister voglio venire la prossima settimana e le porte si apriranno e Leo Fortunato è ancora sveglio ai Cavaiolo allora Cavaiolo Gianni portati anche Leo Martone e la prossima settimana sarà uno spettacolo Leo Fortunato è vero Leo Martone ho detto vabbè chiamate pure lui eh vabbè facciamo un Leo Leo Martone Fortunato facciamo una mucchione ok e poi ci sta Arpaise Bonito e siamo curiosi eh sì e siamo curiosi ma vogliamo andare velocemente in prima categoria altrimenti il tempo qui stringe e non possiamo dire un cazzo eccola qua la prima categoria il girone dove c'è il Cerreto l'unica squadra sanita ha fatto un po' la vostra fine è stato messo a sola soletta in questo girone ha pareggiato in casa contro la Grumese se non vado errato primo punto che dà morale all'undici di Antonio Ludovico e che per il momento lo porta fuori ai play out anche se voglio dire state là tutti a un punto però sicuramente fa morale fa morale per un inizio che non è stato semplice da parte del Cerreto e che devo dire la verità si trova in un girone difficile essendo una squadra molto giovane la prossima partita del Cerreto è San Nicola 2009 quindi solita squadra che ogni anno vuole vincere il campionato e il Cerreto dovrà andare a rendere la vita dura al San Nicola 2009 gli auguriamo il meglio ma andiamo nell'altro girone dove ci sono più sannite quindi abbiamo più voglia di parlare di tutte queste sannite continuano a scrivere loro come se niente fosse parlano tra di loro tra Sturo Pasquale ok Michele adesso si sta può venire anche lui anche tu vuoi venire Michele Buonavita lei è fortunato vabbè lasciamoli stare lasciamoli parlare da soli il Pietrelcino è primo in classifica vogliamo fare un applauso al Pietrelcino prima in classifica sì ci facciamo un applauso perché tre partite tre vittorie sta dicendo sta alzando la voce quest'anno ci siamo anche noi vogliamo andare in promozione dalla porta principale c'è la giovedì chissà se la pensano anche loro così Vitulano e Tufaravalle sette punti ecco il Vitulano ha iniziato bene il pareggio di sabato in casa e il mio cellulare mi ha messo con la suoneria tolta no eh non significa un cazzo va bene e stavamo dicendo Vitulano ha pareggiato corriendo in libertà quindi la partita comunque tosta il pareggio ci sta benissimo sette punti secondi in classifica e questo Tufara che ci sta facendo rimanere fuori dai panni perché insomma fuori dai panni no fuori dai panni no però d'estate si era prospettato insomma un avvio difficile se fosse stato un girone abbastanza difficile e invece forse sono stati favoriti da questo girone e adesso iniziano a essere consapevoli che possono dire la loro tre partite sette punti vogliamo dire tutto in coro forza Tufara Valle forza Tufara Valle vi vogliono ancora bene avete visto come ci tengono e quindi vogliamo adesso ci sta sentendo perché lo sappiamo che Orazio sta sentendo Orazio e noi ti abbiamo Orazio fatti vivo Orazio scrivi lo sappiamo che sei sentendo dai 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 ci abbiamo le prove ci abbiamo le prove allora stavamo dicendo Tufara Valle sette punti Castelpoto sei punti due partite due vittorie Castelpoto ha riposato già Castelpoto ha riposato perciò c'è due partite però ha vinto la sua in casa contro il La Rocca per 3 a 1 vittoria convincente stanno giocando bene complimenti a Mr. Rum quindi due partite due vittorie stanno lì nonostante il riposo forzato altre squadre sannite ce ne sono abbiamo parlato del derby finito 1 a 1 tra Rione Libertà e Vitulano e poi il Rocca San Felice che questa squadra che tutti decantano invece è pareggiato in casa con il Paternopoli ha rallentato un po' la propria corsa non lo sai Rocca San Felice che questo è un girone difficile veramente difficile poi ci sono gli amici del Borussia Aragoness che pure ci sono parecchi beneventani che ci giocano che con una doppietta di Alessio Reale che continua sempre a segnare ha battuto l'Alta Villa 2016 che purtroppo a fine settimana anzi inizio della nuova settimana ha ben pensato di esonerare il proprio allenatore e adesso è alla ricerca di un allenatore qualcuno si vuole proporre sulla panchina dell'Alta Villa che è una bella società e che sta aspettando un allenatore in gamba che voglia allenare lì vuoi andare tu Pagnozzi io sto a Rocca Bacerana non può muoversi vuoi andare tu Giovanni è ancora presto per allenare stava dicendo io sto a San Leucio io sto a San Leucio tra l'altro ad Alta Villa c'è un altro nostro compagno Giovanni Pagnozzi Pitto non è vero Giovanni che spettacolo il come corre l'hai abbandonato solo Soletto volevi ritornare lo volevi portare a Ponte storia lunga lo sappiamo va bene vogliamo vedere il prossimo turno e poi salutiamo tutti andiamo prima categoria eccola qua arriva il prossimo turno innanzitutto abbiamo parlato dell'Alta Villa che va a Paternopoli a Paternopoli facciamo anche un grande imblocca al lupo all'Alta Villa che sta soffrendo nei momenti difficili bisogna cacciare gli attributi quelli che noi ci siamo grattati fino a poco fa per colpa di Leo forse non ci sarà un allenatore in panchina ma probabilmente in questi momenti i ragazzi troveranno l'amalgama e la forza tra di loro per portare a casa un risultato più che positivo gli facciamo un grandissimo imblocca al lupo all'amici del presidente Alessio Gaeta Alessio Gaeta ecco Alessio Gaeta ti sei ricordato io non me lo ricordavo bravo va bene poi c'è un incontro importante tra Savignanese e Castelpoto un bel banco di prova per Castelpoto Savignanese squadra che stava in promozione quindi ripartita dalla prima categoria un buon banco di prova anche se la Savignanese ha avuto qualche scricchiolio nelle ultime settimane andiamo a vedere il Castelpoto che squadra è Giovanni secondo te Castelpoto è una squadra pronta a giocarsi il campionato la vittoria di questa prima categoria secondo me quest'anno se la può giocare fino alla fine ci sono amici vostri c'è il mio cognato c'è il tuo cognato Paolo Parrello e c'è Massimiliano Formato Massimiliano e quindi due pezzi di cuore Massimiliano Fortissimo due pezzi di cuore eh lo so e quindi ci aspettiamo che insomma che salga non è altro io sì io credo per chi ti fiamo in prima categoria c'è qualcuno in particolare no vabbè io ti favo per il Castelpoto pure perché ci ho giocato anche è vero però però mi fa piacere pure che il Tufara faccia un grandissimo campionato ebbè quindi il Pietrocino l'abbiamo messo fuori vabbè sarà per il prossimo anno però io per una questione affettiva ti favo il Tufara Valle eh giustamente perché giustamente ci sta ci sta ebbè ma il Tufara Valle tu adesso dove lo collocheresti secondo te quali sono gli obiettivi fine campionato eh sì una salvezza tranquilla però ci hanno abituato che cacciano il coniglio dal cilindro sì ogni tanto quindi credo che vediamo quanti coniglietti che c'erano sì 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 insomma Rame se inizia a segnare è di marzo è di marzo insomma si fanno rispettare si fanno rispettare poi è probabile proprio che a dicembre le cose vanno bene eh sì dicembre è alle porte quindi credo che il buon Valentino Negro sia già al lavoro eh 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 mica fesso lui no Valentino di solito ricostruisce bene le squadre che spettacolo insomma il vostro cuore è Tratufara San Leucio Roccabascerana Punte attualmente io sono concentrato per il Roccabascerana Punte non mi ha detto di no però eh c'è ancora un po' nel cuore no 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 sinceramente Punte spero che vada tutto bene però per me storia chiusa e basta ok niente non ce l'ho più niente va tolto dal cuore va bene eh che altro vogliamo dire ragazzi che sono le 10 e 5 tra un po' comincia la terza categoria tra un po' vero comincia la terza senza parlare del Roccabascerana Roccabascerana e come facevamo allora domanda a lui sul Roccabascerana vediamo se è preparato chi è l'allenatore del Roccabascerana Filippo Pagnozzi quanti giocatori di Filippo Pagnozzi ci sono nel Roccabascerana 12 12 12 12 no 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 ma veramente no no allora tutti i paesani partendo dal presupposto quanti paesani ci stanno partendo dal presupposto eh non me lo dico paesani partiamo dal presupposto partiamo dal presupposto che abbiamo una rosa di 26 ragazzi tutti eccezionali eh e tutti di Pagnozzi e ci vogliono ancora venire parecchi eh ci vogliono ancora venire eh parecchi eh sono del 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 mio paese d'origine si è proposto per Altavilla Leo Fortunato vado io in Camaiulo mister veniamo con piacere però si è ah è ok buon berleo no ti dico ti dico la verità no qualcuno mi ha seguito dalla scorsa dalla scorsa esperienza del Tufara io sono molto felice dei ragazzi lo so veramente che sei felice anche perché tu ti leghi poi i tuoi ragazzi sì 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 qualcuno si fa voler bene si fa voler bene qualcuno che era andato a Tufara inizialmente si è fatto trasferire a Rocca Bacerana perché come ha saputo che sono andato lì e ha voluto venire e poi ci sta pure chi è del posto tipo Mario Pirone che sono anni che gioca a Rocca Bacerana ha sofferto tanti anni come dice lui a Rocca Bacerana perché sono allora hanno fatto sempre la squadra purtroppo non sempre hanno potuto attrezzare buone squadre perché poi il bacino l'utenza insomma è abbastanza piccola abbastanza piccola quindi però vanno rispettati perché hanno fatto giocata ancora a Cassano no Rocca Bacerana no Rocca Bacerana Rocca Bacerana sì c'è un campo di terra quest'anno la società ha fatto tanti sacrifici per rimetterlo benissimo benissimo allora sei capitato al momento giusto al posto giusto sì sì perché ti racconto questo piccolo aneddoto sì il presidente aneddoto ce ne andiamo a fare in culo il presidente Edoardo Barbati ogni sera i ragazzi gli prepara sempre il tè e una pietanza o che è primo o che è secondo ogni sera li coccola se li coccola i ragazzi se li coccola no